Benvenuto su Psynel, il primo podcast italiano dedicato alla psicologia e alla crescita personale con Gennaro Romagnoli. Ciao e benvenuto alla 232esima puntata del podcast di Psynel, puntata 232. Oggi parliamo di neuromarketing, cioè di come le scienze comportamentali e le neuroscienze stanno cambiando il modo con cui le aziende ci vendono le cose. E lo facciamo con un vero esperto, il dottor Giuliano Trenti, ricercatore nel campo delle neuroscienze e delle scienze comportamentali e fondatore dell'azienda di NeuroExplore. Un vero e proprio esperto che non ci parlerà solo di marketing, ma ci parlerà anche di come applicare le tecnologie delle neuroscienze, del biofeedback alla crescita personale. Bene, allora, iniziamo! Oh, allora, come stai? Come è andata questa settimana? Hai ascoltato la puntata 231 del podcast, la precedente, dedicata al mentalismo? Mi raccomando, se sei appassionato di manipolazione mentale, se ti piacciono i trucchi dei mentalisti, devi assolutamente ascoltarla. E se sei interessato anche di ipnosi e cose del genere, mi raccomando, se non l'hai fatto, vai ad ascoltarla. Prima di iniziare, come sempre, voglio ringraziare tutte le persone che si sono iscritte durante questa settimana ai 10 giorni di meditazione gratuita. Come sai, è un corso di meditazione completo e gratuito che trovi su Facebook e puoi trovarlo anche iscrivendoti alla community di Psynel, in modo da poter scaricare tutti i vari report gratuiti, ricevere tutto il materiale gratuito e tutte le settimane avere la possibilità di ricevere anche il famoso quaderno degli esercizi che ti arriva solo se sei iscritto alla community di Psynel. Allora ragazzi, oggi ai microfoni di Psynel abbiamo un super ospite. Mi è capitato per puro caso di ascoltare una sua intervista all'interno del gruppo degli Slashers, è presente il gruppo privato di Marco Montemagno, per capire immediatamente che mi trovavo di fronte ad un vero esperto della materia. E come sentirai lo è davvero, non solo dal punto di vista accademico, ma anche dal punto di vista dell'applicazione dei dati accademici nella realtà del marketing, quindi una realtà davvero concreta. Ma prima ancora di andare a vedere il curriculum di Giuliano, avevo intuito che si trattava di una persona con le mani in pasta, e in questo caso la pasta è la ricerca, quella vera, non come tanti pseudo esperti che sul web si autoproclamano ricercatori e in realtà non sanno che per essere definito tale non basta avere la curiosità in un determinato campo, ma di solito c'è un percorso accademico, con un dottorato di ricerca, un post-dottorato, eccetera, eccetera. Ma come sempre ti invito a non credere alle mie parole e invece ascoltare con attenzione le cose che ti racconterà Giuliano Trenti all'interno di questa intervista davvero straordinaria, sia che tu sia appassionato di comunicazione efficace, che tu sia appassionato di marketing o più semplicemente appassionato di neuroscienze. Bene allora, psinellini e psinelline, come al solito bando alle ciance e diamo il benvenuto al dottor Giuliano Trenti. Eccoci ragazzi, eccoci in compagnia di Giuliano Trenti. Grazie mille Giuliano per aver accettato il nostro invito. Un piacere assolutamente, grazie a te Gennaro per l'invito. Ok Giuliano, anche se ti ho appena presentato, ti chiedo gentilmente di fare una piccola presentazione per i nostri ascoltatori. Allora, io ormai da dieci anni mi occupo di neuroscienze cognitive applicate a questioni di marketing. Ho cominciato il mio percorso in università, qui a Trento, all'interno del laboratorio di economia sperimentale dell'Università di Trento, in realtà occupandomi prima di tematiche che hanno a che fare con come si influenzano le decisioni di acquisto delle persone. Nel 2013 ho aperto la mia società che si chiama Neorexplore, dove ho un mio laboratorio di ricerca con eye tracking, quindi dispositivi che misurano dove vanno gli occhi per fare i studi di disabilità. Poi ho una serie di apparecchetture tipo la skin conductance, l'elettroencephalogramma e altre tecnologie, che utilizziamo abitualmente per analizzare le risposte che le persone hanno di fronte a stimoli di vario tipo, foto, video e quant'altro. Ad esempio, se avete visto in tv la campagna Unicredit, una delle ultime che è uscita, l'ottimizzazione di quel tipo di spot è stata fatta da noi attraverso dei test dove abbiamo validato scientificamente l'efficacia della comunicazione. In realtà questo tipo di applicazioni è molto spesso riservato a aziende molto grandi e importanti, ma metodologicamente parlando, essendo che abbiamo creato la nostra attività qui in Trentino, abbiamo sviluppato delle nuove metodologie che permettono non tanto di utilizzare il neuromarketing solo per la parte di test, ma in tutta la parte creativa che precede i test. Faccio un esempio. Si va a sviluppare un nuovo packaging per una confezione di un prodotto e non è che si usa il neuromarketing solo per testare qualcosa che viene fatto, ma si utilizza il neuromarketing per sostenere la creatività nell'approntare la grafica, nel dire guarda che se fai una confezione così o cos'ha, sappiamo ancora prima di farla in virtù di ricerche che abbiamo fatto eccetera eccetera, che è meglio farla in un modo piuttosto che l'altro. E questo è ad oggi il nostro principale tratto distintivo, che è una cosa su cui siamo molto specializzati. Ottimo, ottimo. Allora, una bella introduzione, una bella pregna di tanti termini, per cui ti chiedo magari di definirci che cosa si intende per neuromarketing. Allora, in termini generali il neuromarketing consiste nell'applicazione di conoscenze che vengono dall'ambito neuroscientifico, ma anche comportamentale, al fine di aumentare l'efficacia dell'attività di marketing su base scientifica, riuscendo a misurare aspetti che normalmente non si possono tenere conto nel marketing, perché proprio non riusci a normalmente a misurare. Faccio un esempio. Se io ho due filmati e devo decidere quali due funzionano meglio, posso fare delle valutazioni magari chiedendo alle persone di dirmi a voce se piace a loro di più una versione piuttosto che l'altra, magari vado a vedere cosa memorizzano e così via. Queste sono cose, diciamo, sono test e misurazioni molto tradizionali per quello che riguarda il marketing, perché si si limita a intervistare le persone, si fanno dei sondaggi e così via. Tuttavia esistono una valanga di effetti che vanno a influenzare i comportamenti di tutti quanti noi, ogni giorno, io il primo, senza che noi ne abbiamo una percezione conscia. E questi effetti esistono nonostante noi non siamo in grado di verbalizzarli. Faccio un esempio. Se i due filmati sono, diciamo, simili, ma c'è un piccolo dettaglio che magari sembra irrilevante, quello che può accadere nell'intervistare una persona è che questa persona ti dice «Eh, ma guarda, mi sembra totalmente identici, quindi non fanno differenza». Utilizzando i dati, invece, che si possono, diciamo, raccogliere dalla stessa persona che sta guardando il filmato, ma magari attraverso un'analisi dell'attività cerebrale oppure attraverso un'analisi dell'attività del sistema nervoso con la skin conductance, è possibile vedere come, nonostante a livello razionale il giudizio sia simile, l'organismo della persona, il suo cervello, il sistema nervoso, eccetera, abbia reagito in modo totalmente diverso alle due versioni. E è molto probabile vedere che piccole cose, come ad esempio una piccola musichetta un po' diversa, eccetera, possono avere in realtà un effetto molto più profondo di quello che si può pensare a livello razionale. Ma questo è soltanto uno dei tantissimi esempi che è possibile fare. Un esempio veramente a me molto caro è legato all'ambito alimentare ed è l'esempio, diciamo, da cui sono partito come ricercatore ormai dieci anni fa. E cioè, i miei primi esperimenti erano esperimenti dove, prendendo un campione di sommeglie e di esperti di vino, mi divertivo, tra virgolette, a un po' prenderli in giro, dando loro lo stesso identico vino in quattro diversi bui bicchieri, ma modificando le informazioni che avevano su ogni bicchiere. E quindi, che ne so, il vino dei bicchieri era identico, ma ad esempio modificavo i prezzi, quindi c'era il prezzo basso, medio e alto, solo per dirlo in modo sintetico, e lo facevo assaggiare a questi esperti. Ciò che accadeva sistematicamente è che questi esperti non riuscivano a capire che stavano bevendo lo stesso identico vino e andavano a essere influenzati dal prezzo dando normalmente giudizi peggiori al vino meno caro e dando contemporaneamente giudizi molto buoni per il vino più caro. E questo nonostante si chiedesse loro se normalmente sono disposti a spendere di più per un vino più caro e loro rispondessero a no. Quindi il sapere che se una persona ti dice che non si fa influenzare dal prezzo quando beve il vino, ad esempio, ma poi nella realtà se si va a modificare il prezzo di un vino si vede che fisiologicamente una persona lo appretta di più e è anche disposta a spendere di più per averlo è esattamente l'ambito di particolare efficacia e di interesse del nostro mestiere. E a cos'è che bisogna dare ragione? Alle dichiarazioni delle persone o a quello che fanno nella realtà e il loro sistema nervoso e così via? La risposta è ovviamente a quello che fanno nella realtà al loro sistema nervoso e così via. Diciamo, anche se non dobbiamo mai dimenticare che la componente razionale è sempre importantissima quindi dobbiamo tenere conto di un bilanzamento di effetti che hanno a che fare con l'inconscio e la parte conscia. Molto interessante. Allora, avrò già delle domande molto specifiche da nerd da chiederti. Molto benvenuto. So che tu sei molto preparato io ti ho conosciuto guardando un'intervista che hai fatto per gli slashers di Marco Montagno. Ah, ma dai! Sì, sì. Onorato. Ti ho visto lì dentro e ho detto questo qua sa davvero di cosa sta parlando perché io già tanti anni fa è troppo gentile e ti posso assicurare come tu sai sicuramente meglio di me che c'è un sacco di gente là fuori che scrive libri fa corsi però non è neuromarketing cioè non è questa cosa di cui stiamo parlando io e te. Oddio, è difficile dare un cappello ben ben definito di cosa sia tra virgolette il neuromarketing nel senso che quando ero in ambito accademico i miei colleghi che si occupavano di neuroscienze amavano distanziarsi dall'ambito del neuromarketing perché preferivano definire la propria attività come neuroscienze del consumatore oppure per quella parte che non riguarda diciamo la parte più neurocognitiva si definivano psicologi del consumatore o dal punto di vista economico e gli economisti comportamentali sono diversi modi di intendere l'ambito diciamo che allora dal punto di vista strettamente scientifico dobbiamo mettere diciamo un grande distinguo tra quello che sono i metodi normali di rilevazione del marketing quindi le survey i sondaggi i focus group eccetera e questi metodi un pochettino più innovativi e molto più affidabili dove si riesce ad andare in profondissima diciamo precisione a misurare effetti che altrimenti sfuggono e in questo ambito che io vado a soggettivamente definire come ambito del neuromarketing trovi due grandi istinzioni cioè la parte più neuroscientifica dove tu prendi un campione di soggetti e misurando direttamente dei parametri relativi al sistema nervoso l'attività cerebrale e quant'altro utilizzi questi parametri per cercare di spiegare i comportamenti delle persone non so se chi ci sta ascoltando lo sa ma so che è ampiamente dimostrato in tutta la letteratura che esiste su questo tipo di temi è che esiste un legame inscindibile tra l'attività nel nostro cervello e i nostri comportamenti compresi i comportamenti di acquisto quindi diventa praticamente interessante studiare l'attività cerebrale perché studiando l'attività cerebrale puoi riuscire a capire da cosa dipende il comportamento di acquisto su questo ambito ci sono degli studi fantastici assolutamente meravigliosi e di una qualità strepitosa fatti da un ricercatore credo sia americano che si chiama Brian Knudson sulla predittività dell'attività cerebrale relativamente ai comportamenti non voglio entrare troppo nel tecnico ma sono cose fantasticamente utili cioè cose dove si scopre ad esempio che analizzando semplicemente l'attivazione cerebrale di non duemila ma di tre aree nel cervello si riesce ad avere una capacità di previsione con un'affidabilità molto alta parliamo di un'affidabilità dell'80% sul fatto che una persona di fronte a una proposta ti dirà di sì o di no semplicemente analizzando l'attività cerebrale se vi interessa di marketing e non vi interessa questo specifico tipo di studi probabilmente parliamo due lingue diverse ecco per me sono cose più interessanti in assoluto dall'altra parte ci sono tutta una serie di studi dove si fanno esperimenti sulle persone ma senza avere delle misurazioni che vengono direttamente dal sistema nervoso o dal cervello della gente e in questo caso qui parliamo di scienze comportamentali cioè esperimenti fatti su persone dove si misurano non più opinioni o chissà quanto ma si misurano normalmente le scelte e si va a capire cosa influenza le scelte di queste persone i principali autori a cui diciamo io sono molto affezionato sono autori tipo Daniel Kahneman Amos Tversky oppure Richard Thaler e tanti Dan Ariely e così via che sono dei comportamentalisti cioè hanno avuto e fanno abitualmente ricerche hanno avuto l'onore appunto di fare ricerche e le fanno abitualmente che vanno a capire cosa influenza le scelte delle persone senza necessariamente avere a bordo una misurazione dell'attività cerebrale e questo perché è interessante uno perché è molto pratico è possibile costruire degli esperimenti simili a degli A-B test per chi è più familiare con l'ambito digitale dove è possibile capire cosa funziona e cosa no e sapendo bene o male cosa sapendo misurare le questioni che non hanno a che fare con le interazioni delle persone dall'altra parte il limite di questo tipo di approcci è che riesci a capire cosa influenza le persone ma è difficilissimo avere delle buone teorie che spiegano il perché quello che tu hai fatto arriva ad avere quel tipo di influenza e che siano poi generalizzabili ok ok quindi certo invece se tu hai la base neurologica il dato fisiologico è un pochettino più facile è più facile puoi creare un pochettino ok quando dico un pochettino intendo che mentre stiamo parlando ho la mia collega che si chiama Francesca Terna che è una ricercatrice specializzata in neuroscienze che sta elaborando dei dati dove stiamo praticamente analizzando più di un centinaio di foto di camere di hotel per vedere quali camere quali foto hanno un maggiore effetto nell'influenzare le decisioni di acquisto delle persone nell'ambito degli hotel quando si mettono a fare una prenotazione e così via è interessantissimo notare che l'attività cerebrale delle persone che hanno guardato queste foto è incasinatissimamente legata alla decisione di dire sì voglio quella camera oppure no o la decisione di dire quanti soldi sono disposto a spendere perché dico incasinatissimamente perché quando si fa ricerca su temi che nessun altro al mondo ha ancora affrontato come esattamente questo non hai una mappa non hai delle istruzioni e devi applicare conoscenze diciamo riconosciute a livello di comunità scientifica per un'applicazione che può dati dei risultati che non sono in linea con quanto ad oggi è stato scoperto e quindi da buon ricercatore devi metterla a capire quali sono i collegamenti e devi trovare un vero e proprio filo d'ariana in quello che può sembrare un caos assoluto di una valanga di dati che vengono raccolti mentre tu stai osservando delle semplicissime foto in questo caso qui facciamo un esempio la parte più facile da analizzare è la parte comportamentale cioè faccio un test dove presento un centinaio di foto o analizzo un centinaio di foto complessivamente e per ogni foto su un campione di persone vado a chiedere quanto sei disposto a spendere per fare una notte in quella camera lì per oltre esti sì no e quant'altro e utilizzando soldi veri o dei sistemi comunque di incentivo che cerchino di andare il più vicino possibile alla realtà si va a vedere quali foto influenzino un dato molto semplice da analizzare come la quantità di soldi che tu sei disposto a spendere quando passiamo a fare analisi dove invece è coinvolto il sistema nervoso l'attività cerebale eccetera la complessità e le skill che servono per fare un lavoro di qualità sono veramente veramente non comuni assolutamente diciamo ai massimi livelli per poter riuscire a tracciare a fare qualcosa di interessante quindi da punto di vista pratico normalmente per un'azienda anche di medie dimensioni è molto più facile avvicinarsi alla parte comportamentale perché la parte neuro noi normalmente la facciamo come ricerca di base all'interno del nostro laboratorio o come ricerca di sviluppo al nostro interno col fine di riversare non tanto poi la ricerca sui clienti ma i risultati della ricerca questo perché spero di non annoiare nessuno a parlare di queste cose qua tecniche ma è una cosa molto molto evidente cioè tutti tutti ma davvero tutti quelli che si occupano di comunicazione di sviluppo di prodotti di marketing in generale sono molto interessati all'applicare i risultati di ricerche di neuromarketing in generale cioè i risultati di studi dove si riesce a capire come influenzare il processo di acquisto di una persona e fare un prodotto che aderisca bene ai suoi desideri e quant'altro nessuno però è disposto ad investire nella ricerca che serve per sapere quelle cose e questo gap viene colmato da aziende come la nostra dove praticamente io so per cultura quali sono i temi interessanti da affrontare e le ricerche che servono me le faccio me le finanzio e non le vendo se non sotto forma di consulenza che in buona sostanza va a confluire in modo pratico molto agevole alle aziende che possono sapere che io so già avendo testato più di un centenario di foto di hotel che quando uno mi chiede quali sono le foto migliori che funzionano per influenzare il processo di acquisto di un hotel dico A le camere B le camere fatte in un certo modo come fai a proteggere questi dati e contemporaneamente lo so che questa è una domanda un po' sempre da nerd come fai a proteggere questi dati quindi privatizzarli fare in modo che siano solo della vostra azienda e allo stesso tempo avere non so una pay per view una è una bellissima domanda a cui rispondo in modo estremamente onesto in realtà noi questi dati non li proteggiamo continuiamo a divulgarli sia sotto forma di formazione sia sotto forma di consulente alle aziende e sembra paradossale ma anche se facciamo questo sì c'è il rischio che poi qualcuno dica guarda che il Giuliano Trenti di turno ha detto che quel tipo di foto là funziona ma essendo che tu che mi senti dire quella cosa lì non hai fatto tutto lo studio come ho fatto io e quindi so quali foto ho testato so che esperienza mi sono fatto nel fallo sì magari riesci a replicar in una parte ma molto difficilmente riesci a mettere tutte quante le cose come servono nel contesto e avere quindi la migliore possibilità di portare a casa un risultato e dico questo se vuoi anche con un pizzico di voglia di sfidare nel senso che mi è capitato in passato che a livello proprio pratico un'azienda ha chiesto di far formare alcuni responsabili da noi e quello che è accaduto è che una volta finito il percorso formativo inteso come lezioni d'aula prove pratiche eccetera queste persone avevo capito che se la potevano cavare ma parliamo di un percorso formativo di una sessantina di ore quindi non due minuti d'accordo quindi un percorso formativo bello tosto quello che accade è che queste persone qui inoltre fatte questa esperienza cominciano a applicare le cose che gli ho insegnato un po' da sole quello che poi mi dicono di là qualche settimana è che tutto sommato non sono così contenti dei risultati che stanno avendo e che tutto sommato di più e lo dico ma come mai cos'è cos'è accaduto e guarda abbiamo fatto questo tipo di newsletter abbiamo fatto questa applicazione sul sito eccetera eccetera e mi ha portato risultati e pensa che io ho applicato tutte queste cose qua e dico però fermati fammi vedere cosa hai fatto mi fanno vedere cosa hai fatto e appena lo vedo capisco che è totalmente lontano da quello che io avevo detto di fare e cioè avevo capito che loro hanno capito ma avevano capito i principi generali non come calarli nello specifico di ogni realtà che loro dovevano seguire quindi cosa ho dovuto fare ho dovuto prendere e fare un percorso di follow up dove praticamente per qualche tempo lavorando assieme si riuscisse a far capire bene bene in quale tipo di contesto e in quale modo applicare le conoscenze e allora gli risultati sono cominciati ad arrivare conferma di questo è anche legata al fatto che io in questo momento qui sono circondato da sette colleghi arriverà un'ottava persona nel mio staff di qui a poco e quello che so è che quando io assumo una persona nel mio staff normalmente devo accettare un periodo di apprendimento che va dai sei mesi ai dodici mesi e cioè so che anche se la formo bene anche se una persona intelligente anche se lavoriamo otto ore al giorno e più tutti i giorni assieme da quando uno comincia a capire a quando comincia a sapere applicare è passo del tempo dovuto al fatto che deve farsi le ossa e deve rettificare i concetti in modo corretto nella sua testa e dopo un po' effettivamente comincia a produrre in modo molto soddisfacente i risultati perché riesce a mettere in fila tutte quante le cose nel modo giusto ottimo ottimo beh immagino immagino che non sia semplicissimo è chiaro che se uno sa già già accedere a una banca dati oggi e poter leggere la ricerca di per sé è già una piccola sfida poi in più riuscire ad applicarla servono delle skills sicuramente importanti beh io tendo magari un po' banalizzarle queste skills perché essendo dieci anni che ci sono dentro non mi sembra neanche più di che siano complesse però mi rendo conto ogni volta che c'è una nuova persona che lavora con noi bisogna partire da capo e allora dalle facce di stranimento dallo stordimento che si ha durante magari l'esperienza iniziale reintuisco che effettivamente non è così facile mettere tutto quanto uno tutte quante le cose assieme insomma certo allora io in realtà avrei ti farei parlare per ore però per la durata del podcast perché il nostro l'obiettivo del mio podcast è orientato alla crescita personale sai io qualche anno fa Giuliano ho comprato diversi apparecchi di biofeedback per misurarmi però non sono mai stato davvero soddisfatto da quelli che ho comprato ma perché anche perché ho comprato dei giocattoli non ho comprato dei dell'apparecchiatura dell'apparecchiatura quello più serio che ho comprato e non è serio si chiama emotive poc e l'ho già censurato più volte qui sul podcast nominato e censurato perché in realtà nonostante questi 14 elettrodi non mi aveva soddisfatto davvero per cui io chiedo a te dipende per cosa lo usi certamente io ho fatto la cavolata di acquistarlo perché credevo di riuscire a misurare perché fa una specie di piccolo elettroencefalogramma diciamo così ridotto con l'affective suite bravissimo e provavo a farlo per vedere se mi si modificava l'elettroencefalogramma in base alla meditazione ma volevo proprio vedere un effetto risultato da un ricercatore che si chiama Richard Davidson ma era impossibile è giusto un po' incasinato a misurarlo così però ti chiedo questi strumenti adesso allo stato dell'arte che tu conosci visto che il tuo pane è quotidiano potrebbero essere utilizzati nel campo della crescita personale guarda voglio essere totalmente onesto su questo tema io credo che a livello generale possono dare qualche indicazione e faccio un esempio una cosa che utilizziamo anche noi è certo l'elettroencefalogramma ma parliamo di un'altra tecnologia parliamo della skin conductance cioè della trasmittanza cutanea della pelle questo parametro è fortemente influenzato dal nostro stato di stress dal nostro stato di coinvolgimento emozionale e così via quindi quando sei particolarmente stressato e in qualche modo non sei tra virgolette a posto con te stesso questo parametro si modifica in modo molto pesante e è possibile fare delle sessioni di training che funzionano a mio avviso abbastanza bene utilizzando l'aiuto di questa metodologia di questo apparecchio quello che però mi viene da dirti è che per quella che è la mia personalissima esperienza ho trovato una grandissima soddisfazione non tanto dall'utilizzo di questi apparecchi al fine di raggiungere l'obiettivo di benessere crescita personale sviluppo cerebrale e quant'altro ma piuttosto nel fare dei training validati scientificamente che hanno delle ricadute misurate in termini di risonanza magnetica e quant'altro sullo sviluppo del cervello in particolare dopo l'input di un mio collega del CIMEC che si chiama Alessandro Grecucci che è un mio amico l'ho intervistato su queste interviste qua ma dai Alessandro certo certo è un mio amico e abbiamo lavorato un po' assieme all'inizio della mia esperienza di imprenditore qui in Arrow Explorer praticamente quando lavoravamo insieme mi disse ma sai che ho fatto degli studi sulla meditazione e accadono delle cose interessantissime e pensa a te che ho misurato di questioni e si vede che effettivamente funziona e dico vabbè forte però dico non mi sono mai messo a meditare chissà come faccio allora da persona profana ho provato ma non ho avuto chissà quale soddisfazione finché un giorno sono capitato su un TED Talk di una ricercatrice che lavora negli Stati Uniti che si chiama Wendy Suzuki lei è di origini giapponesi questa ricercatrice cosa ha scoperto ha scoperto che l'attività aerobica quindi lo sport unita alla meditazione è fatta secondo delle sessioni organizzate in un modo molto diciamo preciso ma anche altrettanto semplice ha una capacità fotonica di modificare l'attività cerebrale di renderci più sereni di aumentare le nostre prestazioni cognitive e quant'altro appena avessi questa cosa dissi guarda facciamo così era luglio e normalmente nel nostro business ad agosto c'è un calo normalmente dell'attività dico guarda nelle settimane di agosto potrei prendere con i miei colleghi e trovarci la mattina prima di andare a lavorare e fare le sessioni di training che Wendy Suzuki consiglia per poi andare a lavorare e vedere che effetto abbiano quindi funzioniamo un po' così 20 minuti di attività aerobica fatta in un certo modo e dopo questi 20 minuti di attività aerobica non troppo spinta ma nemmeno troppo leggera e ci prendevamo e ci mettevamo a fare un esercizio di meditazione guidata attraverso un'app che si chiama Mindfulness mi sembra e buona sostanza questo esercizio di meditazione guidata durava appena 10 minuti qualcosa di questo tipo e come dice Wendy Suzuki per vedere i primi benefici bisogna farlo 3-4 volte la settimana questo è quello che facciamo la prima settimana non avvertimo nessun tipo di beneficio ma già a partire dalla seconda settimana e per le seguenti tutti quanti noi che partecipiamo a questo esperimento ci sentimo cioè con delle menti lucide una capacità di concentrazione una forza di di portare avanti diciamo ragionamenti di lavorare una voce cioè una sensazione di 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 freschezza che in vita mia non ho mai 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 sperimentato prima di quell'esperienza e da quella esperienza è accaduto che mi sono abituato a svegliarmi la mattina molto presto per andare a farmi la mia bella corsettina non particolarmente importante ma comunque nemmeno troppo leggera con poi una mini seduta di meditazione doccia colazione e si va a lavorare posso dire che i benefici che io ho avuto da questa cosa qui li ho potuti misurare successivamente con la skin conductance con l'elettrocefalogramma non l'ho misurato ma con la skin conductance quello che ho visto è che rispetto ai miei livelli medi di stress questo tipo di training ha avuto un effetto incredibile cioè il il livello di di trasmittanza cutanea si è modificato in modo molto molto pesante in virtù di questo tipo di attività e quindi posso dire guarda per quella che mia esperienza fare il training con gli apparecchi spesso non porta a chi sa qual è soddisfazione vale la pena per quella che è la mia esperienza fai questo tipo di training dove vai a fatti la corsettina fai la meditazione e aspetti che i risultati arrivino perché per quella che è la mia esperienza è la cosa migliore in assoluto che si può fare ottimo ottimo è fantastico Giuliano perché intanto sono completamente d'accordo con te cioè nel senso che questa questo tipo di forma mentis sulla misurazione è la stessa che io cerco di divulgare qui su Psi nel da tempo poi è incredibile che hai citato Alessandro Grecucci che è un mio amico ho studiato con lui ah dai qui a Padova abbiamo fatto psicologia insieme a Padova ah poi è venuto qui al CIMEC a Trento esatto e poi l'ho intervistato quindi tu entrerai a far parte delle interviste insieme al tuo collega Alessandro Grecucci siamo conosciuti lui lavorava al CIMEC io lavoravo al CEL che è il laboratorio di economia comportamentale e abbiamo avuto a che fare con la parte soprattutto di di analisi diciamo del toncefalogramma e quant'altro e infatti tu hai citato delle ricerche sulla mindfulness che lui ha citato nell'intervista che abbiamo fatto insieme pensa quanto è piccolo il mondo e pensa che tra le altre cose hai citato il Wendy Suzuki della quale sto preparando un podcast che uscirà breve ah dai spero di non aver bruciato il podcast no no figurati anzi interessantissimo però guarda per la lunghezza dei nostri podcast io direi intanto ti chiedo se c'è qualche libro in italiano perché io avevo trovato avevo fatto difficoltà a trovare materiali in italiano allora c'è qualche buon libro a mio avviso non non diciamo particolarmente approfondito per certi versi ma comunque decoroso ti spoilerò che tipo a breve scriverò anche io un libro su questo tema che uscirà sotto sotto Hopli 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 come si dice non ricordo e gli autori che io consiglio sono Vincenzo Russo che ha scritto un libro su neuroscienze e vino o qualcosa del genere che però a mio avviso è ben scritto e per quello che mi riguarda consiglio soprattutto libri comportamentali e cioè il classicissimo Pensieri lenti e veloci di Daniel Kahneman oppure prevedibilmente irrazionale di Dana Riley questi sono i miei consigli perfetto allora Giuliano io ti ringrazio prima di salutarti ti chiedo ancora magari dove possono trovarti magari se ci sono aziende all'ascolto comunque imprenditori che magari necessitano di avere delle analisi nella tua azienda facci sapere dove possiamo incontrarti mi trovate su Linkedin c'è il mio profilo Giuliano Trenti e mi trovate sul web sia per quello che riguarda la mia pagina aziendale Neorexplore sia il sito internet aziendale che è neorexplore.it perfetto io Giuliano ti ringrazio tantissimo hai detto un sacco di cose interessanti e ti faccio una domanda ti chiedo nel caso i miei utenti mi facessero un sacco di domande se sarai magari disposto in un lontano futuro a fare la replica in un altro intervista assolutamente sì assolutamente sì molto volentieri perfetto grazie mille a Giuliano salutiamo Giuliano Trenti ciao Giuliano grazie ciao 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 il neuromarketing è un argomento complesso e controverso da un punto di vista etico soprattutto ma ci mostra chiaramente dove si sta muovendo il nostro mondo negli anni 80 quando ti arrivava a casa la letterina legata alla rivista il famoso postal market tu magari credevi che si trattasse di qualcosa di casuale invece dietro c'erano dei sondaggi c'erano dei focus group e c'erano delle analisi dei tuoi comportamenti di acquisto solo che molto probabilmente non lo sapevi o se lo sapevi era probabilmente perché ti occupavi proprio di queste materie fortunatamente oggi la coscienza la consapevolezza delle persone è sempre più grande e sappiamo bene che siamo un po' vittime tutti quanti del marketing da un lato siamo vittime e dall'altro parte siamo carnefici se lo utilizziamo per i nostri scopi ma la cosa peggiore da fare è fare finta che queste cose non esistano come sai per me la cosa peggiore è l'ignoranza non è tanto la tecnica la metodologia ma come questa venga utilizzata è il fatto che le persone di solito che sarebbero le dirette interessate molte volte non le studiano è famosissimo il caso che cito spesso quello di Robert Cialdini che ha scritto il suo primo libro le armi della persuasione che è diventato un best seller per tutti i marketer cioè per tutte le persone che cercano ogni giorno di venderci i loro prodotti e in realtà il professor Cialdini lo scrisse non per i marketer ma per i consumatori Sinel cerca di mettersi in un punto di mezzo aumentando la consapevolezza sia di chi vuole vendere e sia di chi semplicemente sta acquistando o vuole acquistare qualcosa per sapere che in realtà i meccanismi psicologici che ci sono alla base sono molto molto importanti come ha ascoltato in modo divertente a un certo punto Giuliano parla di Alessandro Grecucci che è stato nostro ospite nella puntata 191 di questo podcast come sai io e Alessandro siamo amici siamo colleghi e la cosa interessante è stato vedere come due ricercatori di alto calibro perché anche Alessandro è un super mega ricercatore in ambito clinico soprattutto e si occupa e si è occupato per tantissimo tempo di emozioni e neuroscienze è stato davvero molto curioso vedere per me come le persone che appartengono a campi ambiti completamente diversi come me Alessandro e Giuliano a un certo punto abbiamo una sorta di punto comune che guarda caso è la mindfulness la meditazione e infatti Alessandro ci parla degli studi interessantissimi che legano l'attività fisica quindi il fatto di fare un po' di sport prima della meditazione non ti preoccupare troverai tutto come sempre all'interno del post e all'interno del quaderno degli esercizi con tutti i riferimenti alle ricerche citate da Giuliano bene ragazzi per la versione estiva del podcast direi che abbiamo sforato e non di poco nel caso non lo sapessi la versione invernale dura circa 20 minuti la versione estiva dovrebbe durare meno di 15 minuti invece come sempre visto l'importanza degli argomenti che stiamo trattando in questo periodo rischiamo un po' di sforare ma spero che queste mie parole riescano a inseguirti sotto l'ombrellone magari mentre stai per andare in vacanza o più semplicemente mentre sei in auto stai andando a lavoro una delle cose più belle di avere un podcast è il fatto che tu possa ascoltarlo mentre cammini mentre fai jogging mentre vai in palestra è davvero un modo di fruire la formazione completamente diverso da tutti gli altri che ti consente da un lato di avere sempre con te la formazione in tasca e dall'altro di riuscire a usufruirne anche nei momenti diciamo così nei momenti vuoti della tua quotidianità quando normalmente avresti magari una base musicale e invece puoi ascoltare delle informazioni di valore che magari possono davvero fare la differenza come nel caso del neuromarketing prima di salutarti ti ricordo che Giuliano è stato gentilissimo a darci la sua disponibilità a fare eventualmente una seconda puntata sul neuromarketing in base alle domande che tu mi farai dove vanno fatte queste domande? hai due modalità o all'interno della pagina di facebook di Psynel oppure tra i commenti al post di questa puntata bene ragazzi come sempre voglio ringraziare tutte le persone che hanno speso 5 minuti del proprio tempo per venire su iTunes a mettere la propria review a 5 stelle se non l'hai ancora fatto e apprezzi il mio podcast corri subito a farlo perché questo è un ottimo modo per sostenere il mio lavoro come sempre ti auguro una splendida giornata ci sentiamo la prossima settimana un saluto da Gennaro Romagnoli di Psynel.com Gennaro Romagnoli Gennaro Romagnoli Gennaro Romagnoli Gennaro Romagnoli Gennaro Romagnoli Gennaro Romagnoli